Il 15 gennaio ho aderito all'iniziativa Io Apro, ho aperto la mia attività e oggi sono ancora aperto. Nonostante ci sia poca gente, però almeno do da mangiare i miei dipendenti che poveretti hanno famiglia e non sanno come mangiare. C'è gente anche che viene dall'estero, gente che ha la famiglia in Tunisia e non sa come mangiare. Ho sentito io le figlie di un mio dipendente piangere. Qual è la soluzione? La soluzione è aprire tutti domani, se noi apriamo tutti insieme come ho fatto io. Il governo non ci può fare niente, non può farci chiudere tutti.